Allora, io avevo pensato di cantare una nazione che vi piace molto, quella dei pirati. Quattro pirati nel mar dei sargassi, hanno una zattera fatta di assi. Vanno remando, dicono loro, alla ricerca di un grande tesoro. Però, un è alto, un è basso, un è zoppo e il quarto ha la benda sull'occhio. Vanno remando, dicono loro, alla ricerca di un grande tesoro. Bravi! Poi, poi, che possiamo cantare? Vediamo un po'. Quella degli indiani, la cantiamo? Gli indiani, tutti con le manine così, al centro della terra. Bevono, glu glu glu, glu 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 glu. Con tutta la tribù, auk, auk. Ai ai ai, yuppie ai ai, yeee! Ai ai ai, yuppie ai ai, yeee! L'indiani, al centro della terra, mangiano. Dormono, gnam, 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 gnam. Con tutta la tribù, auk, auk. Ai ai ai, yuppie ai ai, yeee! Ai ai ai, yuppie ai ai, yeee! L'indiani, al centro della terra, dormono. Ss, 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 con tutta la tribù, auk, auk. Ai ai ai, yuppie ai ai, yeee! Ai ai ai, yuppie ai ai, yeee! Ma bambini, siete proprio bravi allora, eh! L'avete imparate tutte le canzoncine! Veramente bravi! Vediamo un po', ne vogliamo cantare un'altra? Mmm, quale possiamo cantare? Gallo Galletto, che ci piace tanto, la rifacciamo. Gallo Galletto, chicchirichi, sono le sette, dobbiamo partire. Prendi il cestino e vieni con me, andiamo alla scuola più bella che c'è. E uno, e due, e tre, alla scuola si sta bene, la maestra ci vuol bene, e ci segna tante cose. Proprio quelle che piacciono a noi! Bravi! Ciao bimbi, un bacio grande! Ciao!